Con Harvey Sinclair, tra l'italiano e l'inglese, oggi vince l'inglese, per cui facciamo l'intervista in inglese. Buona performance personal e buona performance di team oggi. Sì, credo che il team ha giocato, credo che abbiamo giocato davvero bene. E' stato un gioco difficile. E' stato un gioco difficile. E' stato un gioco difficile. E' stato un gioco molto felice, che abbiamo giocato. E' stato un gioco molto felice, che abbiamo raggiunto 3 punti oggi. Magari oggi è la migliore performance della settimana. E' un'altra mentalità e un'altra ritmo. Sì, sicuramente. Credo che tutti ci hanno dato la verità mentalità. E' stato un gioco difficile. E' stato un gioco molto difficile. E' stato un gioco lungo. E' stato un gioco molto felice. E' stato un gioco molto forte e forte. E' stato proprio dal principio. Tutti ci hanno dato la verità mentalità. E' stato felice con il risultato. Harvey, è una grande aiuto per tutti i team. La possibilità di giocare con i giocatori quali. Credo che Marcello, Mirko, Vincenzo e così via. Sì, sicuramente. Inizialmente abbiamo alcuni buoni giocatori. Come hai detto. E' stato facile da giocare con buoni giocatori. E' stato un grande positivo per noi. L'ultima domanda. L'ultima domanda, Harvey. Ora siamo in 6 posizione. Due match e più. E poi le giocatori. Predicazioni? Sì, solo prenderemo un gioco in una volta. E' stato 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 pronto. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao ciao. Grazie.